Il piacere della concorrenza consiste nel rispettarsi e sostenersi a vicenda, annullando le ostilità, credendo nel proprio prodotto, valorizzando le peculiarità di ciascun locale, puntando sul gioco di squadra. Ne sono convinti gli otto ristoratori che dominano la montagna Varesina, sette a Santa Maria del Monte, uno al Campo dei Fiori, artefici delle tavole del gusto, un percorso di squisitezze caratterizzato da otto creazioni per un solo protagonista, il cinghiale. Il tavolo del gusto quindi è un gruppo di amici, tutti i ristoratori di cui l'albergo Sacromonte, il Borducan, Montorfano, Pensione Irma su a Campo dei Fiori, il ristorante Milano, la trattoria Ceppo con Mario Crosinani e l'albergo ristorante Sacromonte di Mario Carabelli. Siamo tutti uniti, ognuno proporrà una specialità, la base della ricetta sarà il cinghiale perché è diventata un po' la nostra mascotte essendoci tanti cinghiali a Sacromonte e abbiamo fatto tra l'altro un piccolo logo con il faccino del cinghialotto sorridente. Un'idea carina, un'unione molto bella e interessante perché i ristoratori che di norma se ci sono si creano gelosia invece qua si è creato un gruppo di amici e l'idea è quella di far conoscere ancora di più il Sacromonte e soprattutto su un percorso goloso. All'orizzonte l'avvio del periodo natalizio che al Sacromonte prevede un 8 dicembre particolarmente intenso, accensione delle luminari, visite guidate su prenotazione ai musei Baroffio e Pogliaghi, l'arrivo dei remagi, l'incontro con Babbo Natale e uno sguardo all'impegno sociale. Ci tengo a ricordare che abbiamo anche una piccola iniziativa benefica a favore della Gemma Rara, un'associazione che si occupa di ricerca per le malattie rare dei bambini e quest'anno avremo disponibili delle palline con disegnate mano, delle palline di Natale con il disegno come tema del Sacromonte.